Un attimo! Con calma! Con calma! Piano! 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 Cat! Siamo finalmente ritornati su Wobbly Life perché dobbiamo portare a termine la missione dello scorso episodio Ossia trovare la spada di Re Artù, andare nella caverna ed aprire la porta misteriosa! Sei pronto? La spada di? La spada di Re Artù! Quale spada? La spada dell'altra volta! Quella che deve emergere dalle acque quando il tempo è tempestoso! Ah la pala! La spada non la pala! La pala? La spada! La pala! La spada! La pala! Ho detto la spada! T'ammazzo! No ho sbagliato! T'ammazzo! La pala! Ho detto la spada! E io ho detto la pala! La spada! Oh! 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 Aia! Sì! No! No! Come si chiede? Come si chiede? Stai fermo! Sì! Ma dai ma mi hai chiuso nel camion! No! No! Andiamo a prendere la pala! Ah! Fermati! Aiuto! No! 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 Ma c'è l'erba dentro al camion! Pogo! C'è un problemino! Signori dell'FBI! Intendevo l'erba del giardino! Ok? Eh... Pogo! Ah! 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 Bro! Ha fatto un trickshot assurdo! Oddio! Oddio! Aiuto! Cat! Cat! Pogo! Ah! Eh! Ma... Ma scusami! Ma che cosa è successo? Ma chi è questo? Ma chi è questo? Ma che vuole? Cat! Ma che cosa è successo? Sono confuso! Non lo so! Ma è tuo amico questo? Eh... No! Non l'ho mai visto! Cat! Abbiamo un leggerissimo problema! Il camion è completamente distrutto! Ne sono due problemi! Sono incastrato io nel camion! Oddio è vero! Sei completamente buggato! Ci penso io! Nessun problema amico mio! No! No vago! No! Quello è acqua! Sbaglio! No! Eh... Ma sono morto solo io? Sì! Ma che vita triste! Però devo dire che la sabbia ha un ottimo sapore! Mmm! Buonissima! È il momento di andare alla ricerca della sacra e misteriosa spada di Realtù! Che aprirà la caverna piena di tesori! Non vedo l'ora! La pala? La spada! La pala! È una spada! È appuntita! Serve per ammazzare le persone! E quelle sono le pale! Quelle che intenditi sono le spade! Sì le persone! Le so terri! Le spade sono quelle là che usi per scavare! No! Quelle sono le pale! No! Quelle sono le spade! Adesso ti ammazzo! Poi vediamo la differenza tra spada e pala! Ok! Andiamo! Andiamo! Andiamo a trovare la spada! Zoom! La pala! E basta! Adesso ti do un pugno, ti butto giù dalla barca e ti faccio mangiare da uno squalo! Ok? E se te lo do io e il pugno ti faccio mangiare da un pesce? I pesci non mangiano le persone! Cioè non tutti! No! 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 Pieno! No! 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 Ok! No! No! Dio! Buona! Buona barca! Ti voglio bene! Ti prego! Questo è il posto del mistero! Adesso dobbiamo solo attendere che scendano dal cielo i fulmini e la spada slash pala emergerà dalle acque! Ti ammazzo! Adesso però, per ingannare il tempo, faremo una gara di sguardi! Sei pronto? Ah boh! Io ti uccido! No! Ok, facciamo il gioco! Non ci credo, Cat! Cat! Oddio! La spada! La spada! Aspetta, piano, 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 piano! No, 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 no! Piano, piano! Ho trascinato direttamente tutta la barca lì sopra! Prendila! Con molta calma! Aspetta, rischi a salire! Sei in ansia! Vai, 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 madonna, ragazzi! Abbiamo aspettato letteralmente un giorno dentro al gioco! Non riesco a salire! È da ieri notte che stiamo cercando la tempesta! Non riesco a salire! Piano, 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 piano! Ok, ok, ok! Ho sbloccato l'outfit da cavaliere! Lascia la spada! Lascia! Ah, voglio morire l'outfit da cavaliere! Piano, piano, piano! Piano! Adagiamo lentamente! No, no, no! No, no, prendi la barca! Prendi la barca! Con calma! Con calma! Mettila nell'acqua! Mettila nell'acqua che prova a saltare! Aspetta! Vieni vicino a me! Vieni, vieni! Vai! Ok! 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 Mamma mia! Adesso! Andiamo a riva e trasciniamola alla fine dell'isola! Dobbiamo arrivare alla caverna senza morire! Ragazzi, voi non avete idea di quanto siamo emozionati in questo momento! La tempesta, con i fulmini, è uno degli eventi più rari del gioco! Ha tipo il 5% di possibilità di spawnare! E noi ce l'abbiamo fatta, oh! Grappati su di me! Grappati insieme a me! Ti porto insieme alla spada! Aspetta! Aspetta! Piano, piano! Ok! Vai! Vai piano! Che se qua mi colpisce un fulmine moriamo io! Oh! Oh! L'albero! Kett! Scusa! Ho capito che... Ho capito che sei emozionato, ma eviterei di morire! Andiamo con la jeep! È molto meglio! Let's go! Ok! Devo solo stare attento a non fare incidenti! Esatto! Attento agli alberi! Non vorrei morire con la spada di Re Artù in mano! Ok? Andiamo con calma! Il primo è che ci serve la barca, Poggo! Ah! Ho appena detto andiamo con calma e mi hai ammazzato! Ti diti forte, Poggo! No! No! Kett! Sei buono! Oh! Oh! Oddio! Oddio! C'è la barca! C'è la barca! Aspetta! 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 Non riesco a prendere la spada! Ok! Ok! Andiamo! Let's go! Portiamo la spada nella caverna! Non ci posso credere che ce l'abbiamo fatta! Tra un po' mi metto a piangere! Ma chi lo dici? Stiamo da un giorno! Andiamo! Sembrava una missione impossibile! Ma ce l'abbiamo fatta! Kett! Adesso appena arriviamo nella caverna dobbiamo stare molto attenti! a scendere sul ponte! Perché altrimenti, come lo scorso video, facciamo una bruttissima fine! Esatto! Piano! Piano! Molto piano! Ok! Un attimo! No! Oh! Ah! Non ci posso credere la spada! Oh mio Dio! Stavo rimbalzando sulla colonna e stavo cadendo nell'acqua malissimo! Piano! Piano! Mi sto cacando sotto che tu non hai idea! Fantasma Formaggino! Ti abbiamo portato la spada! Sì! Maledetto! Sium! Vai! È un grande momento questo! Posizioniamo la sacra spada! Sì! Che figata! Guarda! No! Vabbè! Guarda quanti tesori! Cos'è? Cos'è sta roba? Cos'è? Interacto! Oh! Un fantasma! L'armatura del cavaliere fantasma! No! Vabbè! Che figata! Ho entrambe le armature! Sia quella del cavaliere che quella del cavaliere fantasma! Guarda! Ah! T'ammaccio! Io avevo solo quello del fantasma! Vieni qua! Ah! Adesso tu mi dai tutti i tuoi soldi! Altrimenti! Sai cosa ti faccio? Ah! Ti butto nell'acqua! Muori! Dammi i tuoi danari! Ma è ucciso però! Come te li do? Arrivo Poggo! Tutto bene? No! Ketto! Adesso che abbiamo le potentissime armature dei cavalieri! E' il momento di svelare un altro mistero! Abbiamo posizionato la spada al centro della caverna! Ma in realtà c'è qualcosa di più grosso! Che ci aspetta! Ossia il templio pieno di altre ricchezze! Sei pronto? No! Ma come no? Prendiamo questo aereo! Fidati di me! Lo so guidare! Ho un po' paura! No non ti preoccupare! Aspetta come si sale? Come si... Tranquillo! Quello era un aereo! Questo è un elicottero! Lo so guidare! Fidati di me! Spero! Comunque guidare un elicottero è molto più facile! Infatti siamo già arrivati! Guarda quanto è grossa la piramide! Lì dentro ci sono un sacco di tesori in più! E non vedo l'ora di rubarli tutti! Arrivo! E il problema è come atterriamo? Eh aspetta! Sto decidendo! Dovrebbe esserci un po' di spazio qui! Spero di non far esplodere nulla! Un attimo! No no! Con calma! Con calma! Piano! 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 Atterraggio perfetto! E' da anni che studio l'entrata di questo tempio! E questa qui mi sembra una crepa! Dobbiamo farla esplodere! Qui giù ci sono delle bombe! Andiamo! Let's go! Kawabanga! No no! Piano! Piano! Ragazzi non scendete mai le scale così! Andiamo! Andiamo! Quante bombe hai preso? Vabbè non fa niente! Più ne sono meglio è! Let's go! Attento a non farle esplodere salendo! Potrebbe... No! Avvaga attento! Kett sei un malato! Aiuto! Ok! Perfetto! Perfetto! Qui dovevo metterla? Kett scappa! Cosa? Scappa! Dove? Spostati di là! Sei pronto a vivere questa nuova avventura? Abbo! Adesso ti ammazzo! Abbo! T'ammaccio! Ah no! Aspetta! No 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 no! Ti spocco la faccia! Scusa! Mente ansia! Guarda! Tutti i segni sulle pareti! Ma questi qua sanno disegnare meglio di me! Questo è poco ma sicuro! Anche meglio di me! Ma mi era impazzita l'armatura! Mi stoglieva! Poggo! Non è Poggo! Credo di aver premuto il tasto sbagliato! Piano! Piano! Allora! Allora! Vai! La prima è andata! Ok! Ok! Oh! La seconda è andata! E la terza è andata! Perfetto! Let's go! Ah! Oh mio Dio! Oh mio Dio! C'è un enigma! Poggo su! Ah! Mi ha chiuso la porta adesso! Ketto vieni! Ma com'è fatta a morire? Non lo so! Oh no! Lì sopra c'è un raggio che rimbalza sullo specchio! Che rimbalza a sua volta sulla porta! Secondo me dobbiamo girare gli specchi! Esatto! Far rimbalzare il raggio! E premere questi tasti che ci sono sulle pareti! Dove sono? Li ho appena visti! Eccoli! Questi qui! Cat! Si è aperta una porta! Vieni! Let's go! Oh mio Dio! Qui scendiamo sempre di più! Sto cominciando a cacarmi sotto! Ti prego non fatemi vedere insetti giganti! Trappole! Sto cominciando a cacarmi sotto! Ti prego! Ma... Ma... Cat! Si sono io! Ma quella è una pizza? Ehm... Ma è con l'ananas? Non lo so! Ma ha palesemente la forma di un pezzo di pizza! Ma che problemi avevano gli abitanti di questo tempio? Oh forse erano di Napoli! Ottima osservazione! Ma perché stai rubando un vaso? Sai quanto vale un vaso? Ho capito! Hai ragione! Io non lo so però! No! Il mio vaso! Si è rotto! Sei inutile! Andiamo! Oddio! My fall guys! Cat! Sembra di stare negli squid game! Ho leggermente paura! Allora proviamo! No! No! Stavo scherzando! No! Piano! Piano! Ok! No! Oddio! Oddio! Sei morto? Sì! Oddio! Ho visto il percorso! Te lo ricordi? È uscito! Guarda! Ah easy! Ma cos'è una libreria? No scherzavo! Che si deve fare? Ah! C'è un coso qua Poggo! Allora giriamo questo! Ok! Piano piano! Gira quello! Gira quello! Bravo! Ok! Vai! One hour later! Piano! Ok! Ok! Aspetta 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 che non vedo! Dov'è l'ultima O? Mi sembra che è giù forse! Dov'è l'ultima O? Dov'è? Non lo so! Non lo vedo! Guarda quanto è stiloso adesso il mio cavaliere! Guarda quanto sono bellino! Guardami qua! Con la mia camicetta gang! Sì però adesso dobbiamo risolvere l'enigma! Come facciamo? Sbaglio o questo è un sasso gigante? Eh no! Non sbagli! Quello è un sasso gigante! Ah! Poggo ci penso io! Uso le maniere forti! Ma come hai fatto ad entrare lì dentro? Ma stai fermo! Ma che fai? Ma come sei entrato? Non lo so! Però l'importante è che riesco a muoverlo! Non ci riesci! Non funziona! E' vero non funziona me ne vado! Oddio! Oddio! L'ho trovato! L'ho trovato! Aspetta faccio scendere la pallina! Piano! Piano! Vai pallina! Vai pallina! Adesso suppongo che la pallina vada qui giusto? Easy! Let's go! Eh! Eh! Non mi fa passare! Vai 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 vai! Let's go! Let's go! Piano! Oddio! Ma adesso respawna la palla! Menti di qua! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Vieni 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 vieni! Corri! Corri! Saltella! Saltella! No il mio vaso! Nasconditi! Nasconditi! Dove? No! Cat! Cat! Sono inciampato sulla buccia di banana! Vai! Una banana! Scappa! Vattene! Siamo quasi arrivati! C'è una fontana con dell'acqua che esce dal nulla! Perfetto! Ok! Siamo arrivati! Ce l'abbiamo fatta! E qui ci sono delle stanze... Oh no! Oh no! Ma è tipo un labirinto! Adesso sono una mummia esploratore cavaliere! Ti piaccio? Cat! Cat! Lasciami! Lasciami! Maledetto! Ti odio! Ehi là! Salve! Oh no! Ma che è? Una piscina! Ma questi che sono? Gli indiani che costruiscono le case su YouTube! Cat! Vedo un passaggio sotto l'acqua! Forse dobbiamo alzarlo per accedere alla camera piena di tesori! Forse ho capito pure Pogo! Vieni qua! Perfetto! Arrivo! Ti spiego Pogo! Vedi quei cosi là che si illuminano? Sì! Oh! Dobbiamo premerli allo stesso tempo! Cioè assieme! Cioè quindi questo... E questo... Ok! Ah! È tipo un gioco musicale! Devi premere i tasti come ti dice lui! Di nuovo a sinistra! Di nuovo a sinistra! Bravo! Vai! Di nuovo a sinistra! Ah! Perfetto! Calma, calma, calma! Piano! Sinistra! Destra! Sinistra! 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 Ok, vai! Sinistra! Destra! Sinistra! E adesso di nuovo sinistra! Perfetto! Piano! Piano! Sinistra! Destra! Sinistra! Sinistra! Ok! Lo premo io quello! Vai! Sinistra! Ok! Destra! Sinistra! Sinistra di nuovo! E poi questo. Vai Kett, siamo fortissimi. Vai Kett, ne manca solo uno. Sinistra, destra, sinistra, sinistra di nuovo, triangolo, quadrato e poi di nuovo triangolo. Vai, sinistra, destra, sinistra, di nuovo sinistra, triangolo, quadrato, triangolo. Zoom! Che figata! Vai! No vabbè ragazzi, sta roba è bellissima. Les go, les go, guarda. Ciao Ricky! Zoom! Possiamo comprare civile, è tutto, Pogo. Possiamo comprarci le Lamborghini, le supercar, case di lusso. Adesso ti ammazzo, vieni qua, vieni qua che ti ammazzo. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Ma qui c'è un pulsante rosso. No, Pogo, è un po' pericoloso stare sotto. Sì, 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 scusa, scusa, scusa. Vai, vai. Andiamoci qui. Let's go! Saremo ricchi!